Gentili telespettatori, buona giornata. È uscito un nuovo rapporto, un report, dell'Istituto Superiore di Sanità sul Covid. Vediamo quello che dice questo rapporto. Per i non vaccinati il rischio di complicanze più gravi rispetto ai vaccinati è di 33 volte più alto. Rispetto a chi ha fatto però la dose di richiamo, quindi la terza dose, il tasso di recovery in terapia intensiva per gli over 12 è circa 39 volte più alto rispetto ai vaccinati in tripla dose, sempre 39 più alto per chi non è vaccinato. Sono questi alcuni dati pubblicati nel rapporto esteso dell'ISS che va a integrare il rapporto settimanale sul Covid. Intanto è importante fare la vaccinazione, dice l'ISS, perché il Covid colpisce anche i giovani. E' il commento anche dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. Nel report emerge anche che l'efficacia del vaccino nella prevenzione dell'infezione è pari al 66% entro 90 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. Il 53% tra i 91 ai 120 giorni e il 34,7% oltre 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale. E' invece pari al 66,7% nei soggetti vaccinati con terza dose. Quindi che cosa dice l'ISS? Che il vaccino previene l'infezione al 66% entro 90 giorni, 53% poi scende al 34,7% oltre 120 giorni. Che cosa significa? Che se avete fatto il vaccino, dopo 4 mesi la protezione per riprendere di nuovo il Covid è del 34,7%, quindi un terzo. Mentre chi ha il richiamo, la terza dose, è pari al 66,7%, due terzi. Altro dato interessante è che dal 24 agosto dell'anno scorso al 9 gennaio sono stati segnalati 108.886 casi di reinfezioni, pari al 2,7%. Beh, poi dice il report che la riapertura delle scuole e la maggiore attività di screening effettuata all'interno delle strutture scolastiche Nell'ultima settimana è cresciuta la percentuale di casi con età scolare, 24% contro il 20% la settimana precedente. Negli ultimi sette giorni, dice il report, il 13% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 38% tra i 5 e gli 11 anni, il 48% tra i 12-19 anni. In tutte le fasce d'età da 0-19 anni si registra una diminuzione del tasso di ospedalizzazione. Tuttavia risultano in aumento i casi diagnosticati per 100.000 abitanti nella fascia 5-11 anni e sotto i 5. Intanto i dati che sono forniti dal Ministero della Salute delle ultime 24 ore confermano la frenata nei casi. A parte che quando si parla di frenata sui casi, dicendo che oggi ci sono 171.000 nuove diagnosi, ieri erano 179.000, ovviamente quello è una percentuale sul numero di tamponi fatti. Quindi forse parlare di frenata dei tamponi fatti, che di conseguenza passa anche per una frenata di quelli scoperti. Perché i tamponi siamo intorno al milione, milione e cinquantamila, ma il dato importante è il tasso di positività, che è intorno al 16-16,4%. Ma il dato interessante è che i ricoveri in terapia intensiva, nelle ultime 24 ore, sono 121. 121 lo stesso giorno di una settimana fa erano 141. Pertanto c'è una riduzione del 14,2% dei nuovi ricoveri in terapia intensiva. Ma intanto questo report è fermo a qualche giorno fa. Non comprende il dato di ieri che ad esempio ha visto una bella diminuzione, sia in terapia intensiva, sia nei reparti ordinari, dove ci sono stati decidi di persone che tra entrate e uscite sono uscite. Ecco, diciamo che sono di più le uscite che le entrate. Quindi questi dati in negativo sono ancora, diciamo, migliori che in questo report. Negli ultimi sette giorni sono entrate in terapia intensiva 958 persone, in diminuzione del 7% rispetto alla settimana precedente, 9 e 15 gennaio. La pressione sulle strutture ospedaliere del lunedì ridipinge l'Italia. Puglia e Sardegna passano in giallo, Abruzzo, Friuli, Venezia, Giulia, Piemonte e Sicilia si tingono invece di arancione. A parte che questi colori ormai non significano più niente, potrebbero anche fare un solo colore bianco, cioè nessun colore, e poi rossa. Perché la gialla, l'arancione non vogliono dire niente, non c'è nessuna differenza, se non per i non vaccinati che in zona arancione non possono uscire dal proprio comune. Pertanto queste zone ormai con i colori sono anacronistiche e non vogliono dire più niente. Sì, alcune regioni hanno cambiato colore, ma realmente quello che importa non è le regioni che cambiano colore o il numero di tamponi trovati positivi, non è quello. I dati più importanti sono quelli delle terapie intensive, più che dei ricoveri nei reparti ordinari, che sono ad esempio quelli col covid con sintomi, vuol dire che non sono comunque in gravi condizioni. Il dato fondamentale sono le terapie intensive, che in questo report fanno segnare meno 14,2%. Quindi siamo in inverno, freddo, la variante Omicron dilaga e le ospedalizzazioni diminuiscono. Vuol dire che questo covid sta perdendo forza, si sta depotenziando, sta cambiando. Bene, grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. Grazie a tutti e arrivederci.